Tutto quello che ci circonda è fatto di molecole, per cui dal punto di vista chimico non ha alcun senso distinguere tra naturale e chimico, questa è una distinzione che c'è tantissimo per chi non è chimico, ma dal punto di vista chimico e tossicologico non ha alcun interesse, una sostanza può essere naturale e essere molto pericolosa ed essere invece costruita nel laboratorio e essere utilissima, però è un pregiudizio duro a morire e quindi parleremo un po' di dove andiamo a trovare magari per esempio dei pericoli o delle cose che ci possono far bene, cercheremo di smentire un po' delle bufale che girano, che ne so sul bicarbonato, un grande classico che non disinfetta e magari invece racconteremo di qualche altra insidia per esempio che si nasconde sotto forma di sostanze che in alte dosi possono essere tossiche, velenose come dei cianuri, che sono presenti anche in piccole quantità in cose che mangiamo, nei semini mela per esempio o in quelli delle albicocche, le armelline e uno non ci pensa che ogni anno insomma purtroppo c'è qualcuno che esagera magari e si fa dei dolci solamente con questi semi e finisce all'ospedale. Quindi racconteremo un po' di cose sulla chimica che uno non si aspetta a tavola. Sia l'agricoltura convenzionale che quella biologica, qualsiasi cosa arrivi sugli scaffali dei supermercati o nei mercati deve seguire le stesse legislazioni di sicurezza per cui tutto quello che noi possiamo acquistare è assolutamente sicuro per il consumatore. C'è un dibattito che ormai però dal punto di vista scientifico è abbastanza scemato sulle differenze per esempio di composizione chimica degli alimenti coltivati in modo convenzionale, in modo biologico, in modo biodinamico o addirittura biotecnologico con gli OGM. Dicevo che è un po' scemato perché ne ho parlato nel libro Le bugie nel carrello che è del 2013 quindi sono passati un po' di anni e da lì in avanti non è cambiato molto, nel senso che il consenso è che non ci sia sostanziale differenza finale andando a analizzare la fragola biologica e confrontando con la fragola convenzionale. Dal punto di vista del consumatore per quel che riguarda il contenuto nutrizionale, chimico, di sicurezza, non cambia assolutamente niente. Ci sono delle altre questioni che sono questioni prettamente giuridiche o di regolamentazione ma dal punto di vista chimico c'è veramente ormai poco da dire perché il consenso è che non cambia niente. Per quel che riguarda il biodinamico poi è sostanzialmente un'agricoltura biologica con aggiunte degli elementi esoterici, anche lì ne ho parlato in quel libro e ovviamente andare a vedere l'influsso delle stelle o quelle robe lì non ha alcuna influenza su quello che mangiamo. Poi ciò non toglie che un prodotto possa essere buono o meno indipendentemente da se chi lo coltiva crede nell'influsso del sagittario sulle bietole che coltiva.